ciao a tutti ragazzi ecco a voi il primo video che farò su minecraft di sopravvivenza c'è pure il mio amico vincenzo e lagga è di sopravvivenza come voglio dire e poi farò fine vabbè tanto io subito trovo l'oro diamante saranno qualche dieci cinque cinque episodi allora vi avviso che vi do fino a 10 o 12 minuti come va o 9 scrivete voi nei commenti se vi è piaciuto se vi è piaciuto faremo altre cose se no no non li facciamo allora e incominciamo se vi piacerà molto continueremo fin quando non avremo tutti i diamanti del gioco è impossibile che non finiscano mai prendiamo il legno per ora ci facciamo una bella ascia e ragazzi oggi mi sento felice perché ho avuto il tempo per fare il video con voi e andavamo allora guardate come la stavo creando e la voc... beh allora uno ce lo è per fare la carbonela se non troviamo carbonela ok allora staccini poi mettiamo il tavolo qua mettiamo il piccone ecco gli strumenti che ci serviranno all'inizio io mi trovo sempre con questo qua perché con il piccone piglio la pietra poi mi faccio la spada e poi mi faccio tutto poi fa sera ah sto giocando in difficile in hard aspetta abbassiamo mettiamo normale no perché poi se casomai modiamo tutta la roba che ora prendiamo no perché quando i zombie ci uccidono perdiamo tutta la roba ragazzi prendiamo un altro po' vi posso la stagia aperta ciao a tutti ragazzi come vedete questo sarà l'ultimo albero già abbiamo molta di legna non è vero vabbè servono altri uccidi pecore così hai la lana per costruire il letto di notte vabbè sì sì muori pecore muori pecore uh beh siamo fortunati ragazzi oi i principianti hanno culo prendiamo un po' di carbone ti consiglio anche di prendere un po' di pietra così costruisci picchetti di pietra sì la lo so poi prendiamo prima carbone che è più importante eh ragazzi mi farò la casa poi andrò a sperare questa caverna poi prendo abbastanza coblesse minimo 20 serve la coblesse fare anche la coblesse 21-22 allora andiamo andamos allora ragazzi io la casetta me la farò qua anzi mi piace anzi no allora facciamo una cosa grazie che ti ah cavolo ecco questo è uscito in caso se nella caverna ci saranno due vostri no credo di no tanto guarda che è normale sicuramente ci saranno ecco lui io me ne fugga ragazzi andremo a sperare la prossima eh ciao andiamoci ne andiamoci fuggi 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 allora no lo zombie può anche uccidere può far del male oh ma abbiamo preso uno di lana vai ti prendo a picconato mela dicono che è difficile trovare una mela dicono io sento le pecore però non le trovo io prenderei pecore e mucche le mucche possiamo costruire possiamo mangiare e costruisce la matura le pecore possiamo dormire aspetta non trovo la cavolo di lana oh è una botta ragazzi sono però una botta ho fatto il parkour sono solito in questo albero che non lo so nemmeno come ho fatto costruisce prima la casa qua e ci arrangiamo con la lana abbiamo preso la caverna di fronte oh oh eccola vieni qua non ci due 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 ho detto due ecco una è marrone la lana una piccola casetta tanto è piccola dove? no si aspetta costruiamoci prima la casa che è più importante piccola però abbastanza che abbiamo di cinque è di due no di quattro no è dopo no 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 ti fanno la casetta ma poi io non roppo le pulite perché no perché c'è abbastanza no come devi rimanere in questa zona per sempre? no per sempre no ma dobbiamo pure non so nemmeno io di quanti blocchi l'ho fatta ora facciamo la casetta ci mettiamo tutto poi andiamo sulla montagna se non troviamo niente stacchiamo perché quando sto registrando vediamo già stiamo a 8 minuti no perché poi youtube carica molto no pure la sabbia che ci possiamo fare il ca scusate la facciamo abbastanza la facciamo abbastanza è finito penso che la prossima puntata devo mandare la prima legna questo è sciato? sì sì ecco ci serve della sabbia fammi posizionare la roba ma mi stai allora ragazzi creiamoci la fornace poi sta bellina bellina questa casa se è bella scrivete commentate scrivete mi piace ve la porta poi dopo poi dopo poi dopo facciamo così e ragazzi io stacco alla prossima puntata ciao ragazzi alla prossima puntata puntata puntata